Bella ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video, finalmente i playoff, i playoff su NBA 2K15, ma prima vediamo i premi di stagione, infatti il migliore come al solito e per il terzo anno consecutivo è Kevin Durant con gli Oklahoma City Thunder, la matricola dell'anno è Esteban Martinez, Sesto uomo dell'anno, Trey Burke, dei Jets, difensore dell'anno, Embiid ragazzi, che ha preso veramente una caterva di rimbalzi, veramente ve lo posso assicurare, rivelazione dell'anno, Kemba Walker, e ragazzi il primo quintetto NBA, non c'è Ale Miracle ragazzi, non chiedetemi perché, ma Ale Miracle qui non c'è, C'è Kevin Durant, c'è Paul George, DeMarcus Cousin, Russell Westbrook e Stephen Curry, io dico che va bene così, però non so, non so ragazzi, effettivamente potevo esserci qui dentro, però come potete vedere sono nel secondo quintetto insieme a Al Jefferson, Rudy Gay, Kevin Love e Damian Lillard, e questa sarebbe veramente una squadra abbastanza ingombrante, Mentre ragazzi nel primo quintetto difensivo, però, ci sono io, e sono insieme a Embiid, Oladipo, Ibaka e Kevin, questo è il miglior quintetto difensivo dell'anno, Le matricole migliori, Glenn Walker, Elton Copeland, Leroy Fleming, Esteban Martinez, Jonathan Pittman, allenatore dell'anno ragazzi, Jason Kidd, se l'è meritato direi, perché comunque Milwaukee ha avuto veramente un miglioramento incredibile, E quest'anno, nella carriera di Alley Miracle, Milwaukee ha veramente rischiato di arrivare al secondo posto, perché veramente se la giocava sia con noi che con Cleveland, poi ha mollato un po' alla fine, però veramente ha avuto molta resistenza. Per quanto riguarda chi mi ha chiesto gli attributi, eccoli qui ragazzi, non è cambiato tantissimo, in questo momento sono ancora a 86 in generale, anche se adesso vedete 87, ma è solo perché mi sta facendo vedere come migliorerà il mio giocatore se aumento questa statistica. Però ragazzi, come potete vedere, è una cosa abbastanza tranquillissima, abbastanza tranquillissima, ma comunque difensore abbastanza alto, atleta abbastanza alto, forse anche troppo per cercare di fare delle schiacciate portentose, e poi un buon tiro, sia dalla media che da fuori. E partono i playoff ragazzi, e beccatevi l'ingresso dei Bulls. The man in the middle from Florida, number 13, Jokin Noa. Eccolo qui Miracle Man cambia la musica E lui Gaza di brutto i suoi compagni di squadra Per questi playoff Che partono subito Contro Miami Heat Tutto lo stadio rosso ragazzi Per questa partita Eccolo qui Boom Derrick Spacchiamogli il culo Round 1 Game 1 ragazzi Subito Noah Spacchiamogli il culo forza Vai Giacchino Porca miseria Dwayne adesso Subito contro Miracle Adesso è Bosch Bosch per Lualdeng Lualdeng dall'altra parte Vediamo come se la cavano Guardate che figata Sul campo la scritta playoff Ma perché devo sempre guardare in giro E fare le figure di Mer Subito Norris call Adesso però Non ho capito perché l'indicatore Mi va su Bosch Ancora call Stoppata Stoppatona di Ale Miracle Subito il passaggio per me Mi smarco da quest'altra parte Nessuno può fermarmi Boom Shaka laka Partono così I playoff Del Miracle Man Ma anch'io ci sono No Derrick Mamma mia Assist ingombrantissimo Perché Derrick Si ha cercato lo spazio Si l'ha cercato da solo E probabilmente Derrick si sta svegliando Proprio per i playoff Ragazzi Vogliamo vincere Chicago vuole vincere Lualdeng adesso La piazza La tripla Mannaggia Cosa fai? No Oh Facilissimo Non so cos'è C'è cascato a bestia Wade qua Vieni pau Attenzione Il fittozzo Boom Ma le Miracle Vuole Passare i playoff E lo sta dimostrando Minchia Le musiche pompose Dai che spacchiamo tutto Madone È inarrestabile Dwayne In questa partita Non arrendiamoci Derrick Bam Non arrendiamoci Guarda Guarda come me la gioco Derrick Guarda Derrick Guarda Tocca a te Vai fai vedere anche tu qualcosa Che cazzo fate Ma che action Ma cosa cacchio avete combinato Ve la siete rischiata di brutto qua Fallo di Pau Fallo di Pau 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 che sa E cazzo è Non mi fanno vedere i liberi Mi inquadrano Pau E basta Ho detto Pau E hanno inquadrato solo lui Allora Qual è il vostro obiettivo ragazzi Attenzione Napier Alle Miracle La difesa portentosa Di Miracle Adesso però Tony Devi andare Perché Se no siamo tutti da me Oh Napier Basta Napier Proviamo a fare questo Dai Uhuhuhuhuhuhu Completamente distrutto Napier Ragazzi In marcatura O Mario Chalmers Bam Ecco perché Uhuhuhuhuh C'ero Eh mi dispiace Mario Cazzo però Granger Ma vaffan bro Quanti sono Porca miseria Derek dai Sei da solo Ma perché Boom Grande Nonostante Il pressing Riesco A piazzare Questo canestro Importantissimo Perché è una tripla Grande Dai Eravamo in 22 A marcarlo 30-28 Non è una partita facile Questa Dai Non era male Cosa fate Mamma mia Che schemi Però Per arrivare Al canestro Derek Sì Altra tripla 33-32 Stoppata Grazie coach Stoppatone Meno male Ho rimediato Al mio errore E vai che rientriamo Intanto Il torello Lì Esci Oh Ma c'è i capelli Di Dennis Rodman Il toro Chi ci sono Ci sono Ci sono McDermott Bravissimo Dai Grande difesa Da parte mia E Gasol Fa la cazzata Ma porca miseria Derek Però io Che passaggi ti faccio Dai Grande Gasol 49-43 Piccola opportunità Di andarcene Con il risultato Difendiamo bene Difendiamo Continuiamo così Abbiamo fatto una bella difesa Giacchino Ma dai Ma non è probabile Grande Altra stoppata Ma quante ne sto stoppando Eh Adesso basta Rimbalzino di Miracle Rimbalzino Di Miracle Gibson Gibson fa un blocco Importantissimo Che toglie il tempo A Wain Boom Shaka Laka Posterizzato Dang Ancora Sfidozzo con Dwayne Questa volta Però non ce la fa Dwayne A fregarmi Andiamo Mack Ma che cazzo Bam Tripla Derek Rose Cerca di avanzare Sulla parte sinistra Del campo Poi la palla Per Miracle Miracle sfida Nuovamente Dwayne Wade E gli tira in faccia 58-50 Ancora la sfida Persa di Wade Con Miracle Questa volta Miracle sta difendendo Veramente bene In questo Terzo quarto Qua però Ho fatto la cazzata Palla persa Credo che Sia evidente Che ho fatto la cazzata Andare via Di altri due punti E credo che 12 punti Di vantaggio Possono anche bastare Bravissimo Granger Ero te cazzo Però Palla mia Vieni qua McDermott Bravo Andiamo Ah ah Ci sono cascati tutti Però non ho capito Perché non mi ha dato L'assist Altra deviata Altra palla Per Derrick Che me la passa Io la ripasso a Derrick Porca miseria Per un pelo Per un pelo Non facevamo Un alley-oop Miracoloso E intanto Terza palla rubata Per Miracle In questa partita Assist off the game Bella lì E' il nostro Rose Grandi Rimpalzo di Miracle Che fa avanzare Chicago Rallenta un po' Miracle Vede Heinrich da solo Kirk Attenzione Poe Grandissima action Bravo Pau Vai Snell Sei da solo Boom 75-59 Secondo me Partita chiusa Non è mai detto Però A questo punto Ancora Deng Con l'assoito schema Dove appunto Lo avrebbe dovuto Tripleggiare Ma invece Si è trovato la difesa Poderosa Rimpalzo difensivo Di Miracle Aspetto Gasol Che tenta di farmi Un blocco importantissimo Poi Pau Cerca di entrare Ed eccolo qui Un altro assist Lo sfidozzo Non è facile Bisogna comunque stare attenti A quello che fa Continua a muoversi Alla fine il passaggio Ancora fuori per Deng Che piazza di nuovo Questa tripla Uno schema che stanno facendo Troppo spesso McDermott Mi frega La doppia doppia Adesso è Derrick Che me la passa Io Abbastanza tranquillamente Mi fermo Controllo E tiro Attenzione Rubata Non uscire Merda Oh Oh Terry Bel movimento Bel movimento Colci casca Probabilmente Liberi Che ci porteranno A chiudere Definitivamente La partita Anche se credo Che 91 a 75 Si è già Completamente chiusa Ma così Gli mettiamo I lucchetti E mi fanno uscire Un minuto e 21 Allora Allora questo Questo Ti do ragione C'è New Orleans Il sodio di New Orleans In panchina Intanto entra Che Giacchino Qua gli do ragione Perché oggi Veramente Credo di Aver Tre o quattro No forse Cinque Pelle perse Ragazzi Mannaggia E finisce qui La prima partita Dei playoff Contro Miami 99 a 78 Completamente schiacciati Anche se nei primi due quarti Hanno fatto veramente Tanta resistenza Però ragazzi Ecco qui Wade un po' amareggiato Ed ecco qui Lo United Center Tutto rosso Quanto è stata importante La difesa stasera? L'allenatore Insiste sempre sulla difesa E io non voglio certo Deludere lui O i miei compagni Il nostro obiettivo È sempre quello Di mettere in difficoltà Il loro attacco E penso che questa sera Ci siamo riusciti Grande gruppo E grande inizio di playoff E grazie Miracleman Bene ragazzi La prima dei playoff È andata benissimo Ovviamente Cercherò di farvele vedere Tutte nel più breve Tempo possibile Questo episodio Finisce qui Ci vediamo Nel prossimo video Della carriera Via le Miracle Bella Ciao 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 Ciao